buongiorno oggi abbiamo scelto il cavaliere di spade che sarebbe e aoria è l'angelo della fiamma ci sono che sono questa carta rappresenta i cambiamenti di programma ci sono delle piccole dei piccoli rancori che sono ancora presenti nella vostra vita ci saranno o ci sono tuttora in delle notizie false che vi verranno date fate molta attenzione oggi a quello che vi viene raccontato perché questa carta appunto è una carta abbastanza negativa questo è quello che vi mette in guardia l'angelo e aoria vi auguro una buona giornata